Si è concluso poco fa nella biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna l'incontro promosso dalla Fondazione del Monte intitolato Finanziare la ricerca per la salute 2016, la terza edizione del convegno per fare il punto sull'attività del settore ricerca scientifica per illustrare i criteri che regoleranno le richieste di contributi in questo ambito e per raccontare i lavori, i risultati di otto progetti finanziati tra il 2012 e il 2013 già conclusi che sono stati selezionati tra i tanti meritevoli e approvati L'incontro si svolge nell'ambito del programma culturale della Società Medica Chirurgica che ha la sua sede storica proprio all'Archiginnasio e è stato alla presenza del retore dell'Alma Mater Francesco Ubertini